video Bianca fa qualcosa ma che cosa cosa possiamo inventare balla ok allora mi dicevi canta no ma stiamo registrando canta voglio farvi vedere come canto oppure come ballo dai canta canta mentre balli no ballerà ok ok ballerà Bianca questo è un inizio guarda ci sta seguendo il mostro ora balliamo ora balliamo canta pure Bianca si vergogna ok la mia amica è diventata una sirena e ora io l'ho abito quando io quando io al mare mi la vedo sempre con la cosa oppure sulla tua cucina guarda i strusci dai fallo no devi ballare come prima guardatene ora tu registra la mia amica è diventata una sirena io quando vado no rifà tutto da capo perché ero bloccato vai da là no 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 nero a te liberi iscriviti è diventata una sirena con la a te risotto per la che ti Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi e oggi non spingere questo passante, no spingere, ciao a tutti ragazzi, oh mio dio Bianca, registrali, no lo faccio io, guardate le mucche! Tana per Caterina e Tana per Elias! Ciao a tutti ragazzi! 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 Deve andare sulle foto, ma devi chiedere al tuo padre prima lui ti scrive come ti vuoi chiamare e dopo lui ti fa tutto il resto! Dai Bianca prima devi ancora fare il video! Fagli ancora il video! Ok! Ok! Ciao a tutti! Ciao a tutti!